Bambi, buongiorno, Bambi Lazzati, Presidente, Direttrice del Premio Chiara, una sala meravigliosa. Una sala meravigliosa, tanti hanno riservato i posti, speriamo che vengano tutti, perché questa è la cosa importante, cioè riservare, non ho riservato 400 posti, stiamo aspettando i bambini, ci sono le comunioni, però siamo contenti che abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo fatto un grande lavoro, soprattutto grazie ai docenti che hanno portato avanti questo magico patch, i bambini si sono entusiasmati, tutto, anche le mamme, devo dire, contenta di aver fatto tutto questo lavoro e continuiamo.